Io mi chiamo Luciana, arrivo da Tortoli e ho conosciuto il dottor Palmas attraverso delle persone che sono già state qui in clinica in Moldavia. Ho mandato la radiografia a dottor Palmas in un profilo riabilitazioni, bocca bionica, e mi è stato risposto dopo qualche giorno. Lui personalmente mi ha mandato tutte le informazioni a me desiderate. Io avevo una paradontite diffusa in tutta la bocca, allora mi è stato proposto di accorciare la gengiva, me l'ha fatta il dottor Roman, un bravissimo chirurgo. All'inizio sono arrivata e mi hanno fatto tutti i controlli, sono molto precisi, tutte le radiografie, tacchi in 3D, mi è stata fatta subito il giorno dopo l'arcata superiore. Mi hanno tolto tutti i denti, pulito tutta la paradontite e il giorno successivo mi è stato praticamente fatta l'arcata inferiore e ho messo praticamente 6 impianti sopra e 6 sotto. Io sapevo già di aver avuto tante informazioni di persone che sono state qua, sono state bene, bei sorrisi e quindi ero proprio intenzionata a farlo. Ci ho creduto da subito, mi sono documentata, ho visto varie foto e così è stato, ora raccolgo i frutti. Io consiglio a chiunque, soprattutto alle persone che conosco, di venire qua perché comunque sono professionisti, tengono molto all'estetica della persona, fanno dei lavori veramente ben fatti. Io sono soddisfatta e questo lavoro lo rifarei mille volte. Ringrazio dottor Palmas di avermi dato questa possibilità e auguro a tutti di fare veramente questo percorso, non ve ne pentirete, provateci.